La felice protagonista del nuovo video dei Rio che accompagnerà il singolo Terremosse in uscita il prossimo 18 ottobre, brano ispirato dalla grande forza e caparbietà degli emiliani che dopo il sisma del 2012 hanno saputo rimboccarsi le maniche e guardare avanti. Tanti figuranti che hanno prestato il loro volto alla musica, trasformando così il paese emiliano in un grande teatro a cielo aperto. Non sarà un video tragico, cercheremo di colpire e di emozionare più che altro, facendo vedere il coraggio delle persone che si rialzano. Abbiamo unito i figuranti del magico carnevale, di una manifestazione teatrale aperta al tutto il paese che si tiene ormai da più di 11 anni qua a San Felice, che sono maschere, sono proprio gli abitanti di San Felice che si truccano e recitano lungo le vie del paese. C'è una compagnia di Forlì, il teatro delle Forchette, si sono prestati per creare la rappresentazione commediante che si girerà all'interno della piazza. Ci siamo noi che faremo i musici che accompagnano i teatranti e probabilmente c'è la partecipazione di Giuseppe Giacobazzi che ci regala un cammeo. Un'anticipazione, un verso della canzone? E l'orizzonte si confonde in questo oceano d'amore, che se ogni giorno sai che muore, ce n'è una nuova da aspettare, ehi, non c'è mai fine lo sai.